Il primo tempo è giocato bene Ha tenuto la partita in mano Abbiamo avuto le nostre occasioni Senza subire niente Ci sta che nel secondo tempo Magari qualcosa abbiamo concesso Anche un po' per stanchezza E basta È data così Chiaramente contro squadra di questo calibro Se girano Quel qualcosa che concedi Diventa tanta roba Che giustamente hanno grande qualità Ci portiamo a casa il punto Visto anche i risultati delle altre E continuiamo a lavorare Quando dico in potenza Intendo dire personalmente Che evidentemente se in 11 partite Non hai più vinto Forse è una squadra che ha dei limiti evidenti Secondo me Non parlerei di limiti evidenti Chiaramente dei limiti li abbiamo Se no non saremo decimi Non in cosa siamo Quindi questo mettiamocela via E i limiti li abbiamo Secondo me possiamo fare Vista la partita di mercoledì Visto il primo tempo di oggi Questa è una squadra che può fare Meglio di quello che ha fatto il secondo tempo Sicuramente Chiaramente dobbiamo migliorare In continuità di concentrazione E anche in condizione Sicuramente Possiamo migliorare ancora Dobbiamo Visto che non abbiamo più le partite In frasi settimanali Dobbiamo Segnali che le sono piaciute di più Le cose che le sono piaciute di più Della sua squadra oggi Ma il primo tempo Mi è piaciuto quasi tutto Abbiamo fatto pochi errori Abbiamo gestito la palla bene Senza fretta Abbiamo lavorato bene In transizione Che è una cosa che mi piace Che cerchiamo di fare Quindi Il primo tempo Ho pochi appunti da fare Infatti noi abbiamo fatti Praticamente Secondo il Scusami Nell'intervallo Non ho detto A parte un paio di cose Che andavano sistemate Non ho detto praticamente niente Dal punto di vista tattico Il secondo tempo Secondo me Abbiamo temporeggiato un po' troppo In alcune situazioni Ripeto Dopo individueremo un attimo Motivi Potrebbe essere anche Che ci sia stato qualcuno In difficoltà fisica E Quando abbiamo perso Dopo quando perdiamo spazio Sul pressing Facciamo fatica Questo è poco ma sicuro Questa è una realtà La terna ha sfondato Sulla destra Della nostra linea Sia poi lei infatti Ha cambiato Sia bianchi Bravi loro Sulla destra No Sì 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 Sulla destra Ah nostra Sì sì Bravi loro Qualche anche errore Come diceva lei Ci sta Ci sta Se ho fatto due cambi là Vuol dire che non ero tanto contento Comunque Che in quel momento lì Probabilmente Potevamo dare qualcosa in più O magari qualcuno Poteva dare qualcosa in più Un'esperienza di salviato E sicuramente In quel momento lì Era Era giusto Secondo me Fare quei cambi lì Magari ce n'era anche Qualcun altro da fare Quanto ha influito La stanchezza Magari anche mentale Ma quello un pochino Quello un pochino Ma un pochino Secondo me Dopo Cioè siamo entrati Con il carico giusto E dopo probabilmente Un pochino Ci siamo scaricati Però adesso Stiamo a cercare Ste puttanate qua Se vuoi migliorare Sicuramente Non devi mollare lì Neanche un centimetro Soprattutto a questi qui Non devi assolutamente La cosa Diciamo positiva È che Quando non riesci a vincere Devi fare di tutto Per non perdere È andata bene Su quell'ultima azione Di Boateng Sarebbe stata anche Un po' una beffa Sì Queste partite qua Si risolvono Su quelle cose lì Abbiamo preso noi Il palo al primo tempo Oppure l'altra occasione Quindi Sono cose che succedono Purtroppo C'è stato un errore Abbastanza Abbastanza Importante Però lì è stato bravo Dopo Stevanini A recuperare Quindi Merito suo anche Vi va a dare i meriti Poi a chi fa le cose Mister Cinque partite al termine Si cominciano a fare conti Per esempio La prossima trasferta È a Teramo Che è una diretta inseguitrice Bravo esatto Adesso bisogna guardarsi le spalle Bisogna lavorare In questo senso qui Però senza ansia Senza problemi Abbiamo portato a casa Un punto comunque Questa è una squadra forte A di là poi Che sia Cinque punti sotto Quattro Quanti sono Non mi ricordo E li abbiamo tenuti a distanza Quindi guardiamo il bicchetto Per mezzo piano Andiamo avanti Perché sicuramente Domenica al Teramo Ci darà battaglia Perché chiaramente È la loro La loro partita Bene Ringraziamo Grazie